Giorgia Meloni non vuole sentir ragioni e non è disposta a scendere a patti non niente o nessuno. Per lei la crisi di governo si risolve solo con nuove elezioni che restituiscano al paese una rappresentanza vera e non di palazzo. Per questo motivo la leader di Fratelli d'Italia ha criticato duramente le recenti dichiarazioni di Nicola Zingaretti, che evoca il ritorno alle urne come il male assoluto, è ovvio, dato che il PD e tutti i giallorossi uscirebbero con le ossa rotte dal voto, costretti a cedere finalmente il governo al centrodestra. Elezioni anticipate? L'apertura della crisi ha materializzato un rischio che va evitato in tutti i modi, ha dichiarato il segretario dei DEM, che è stato attaccato dalla Meloni. Un rischio per le vostre poltrone? Le parole di Zingaretti sull'ipotesi delle elezioni anticipate dimostrano il terrore che hanno PD e M5S verso il voto libero dei cittadini. E si definiscono democratici? Grazie per la visione! Grazie per la visione!